ah la struttura che è grande si ma è proprio... ha tanto peso perché ha la struttura che è grande però è buono lo vedi che è buono si si anche il nostro fin da subito impegnativo grande aggressivo di queste dimensioni si no non lo fermi hai visto il nitro questo qua è grosso? e di solito gioca con un armstaff che è sui 25 kg però è continuamente per terra l'armstaff perché ormai l'ha capito lui che con un spintone riesce a rovesciarlo si si manca il via si vede per quanto grande sia il foro